è arrivato il momento noi siamo pronti e tu una corsa contro il cronometro adrenalina spettacolo sport special event mbh italia 2021 più recupero purity e juvenile 2020 as per l'onda 25 26 27 giugno 2021 noi siamo pronti e tu un'altra corsa contro il cronometro un'altra corsa contro il cronometro 3.2